L'abbiamo detto in apertura, case popolari nuove di zecca che non vengono ancora assegnate, disabili e aventi diritto protestano. Vediamo il servizio di Antonello Lai. Se vi state domandando chi sono le persone che stanno entrando qua nell'ufficio dell'assessore Deida, Comune di Cagliari, responsabile soprattutto degli alloggi popolari, sono due persone che l'altro settimana abbiamo fatto parlare e si sono lamentate del fatto che l'assessore non gli stava ricevendo, numero uno, e la seconda cosa che le case soprattutto che dovevano occupare loro, occupare nel senso che sono assegnatari, ancora nonostante i lavori finiti non sono state ancora consegnate e ce ne vuole ancora. Mi dispiace che la settimana scorsa non ho potuto riceverli perché avevo altri impegni e non sapevo, i signori non mi hanno chiesto un appuntamento, nessuno di loro, ma io sono sempre prospetta ad accettare tutti gli appuntamenti che mi vengono richiesti. Mi è stato richiesto e oggi abbiamo un appuntamento e li ho ricevuti. Per quanto riguarda gli alloggi, voglio dire che abbiamo fatto le prove di carico, ufficialmente stiamo aspettando appunto il certificato, ci stanno arrivando tutte le certificazioni degli impianti e quindi per loro poi li prenderemo in carico e assegneremo, spero, quanto prima ho detto appunto, spero che possano festeggiare il Sarragozzo nelle loro abitazioni perché le case sono state assegnate, adesso se riusciamo provvederemo anche a consegnarle le planimetrie, a fare un incontro con l'amministratore che è stato nominato per fare appunto una programmazione delle spese e loro possono anche già magari provvedere all'acquisto di mobili e capire cosa.